Ben trovati da Nikos di Trebi Meteo, anche la nuova settimana ci fa vedere l'alta pressione disposta in aperto atlantico, non interesserà il Mediterraneo e di fatti lascerà strada libera, spazio a queste correnti ben più fredde dalle latitudini settentrionali, isole britanniche, Scandinavia, buttarsi sul bacino del Mediterraneo e dar vita a qualche veloce. Zona di bassa pressione, con l'innesco attenzione anche lunedì, qualche piovasco al nord-est e sulle regioni del centro-sud, poi pausa martedì ma nuove perturbazioni entro giovedì bagneranno ancora le nostre regioni, non escluso qualche fiocco di neve al nord a quote basse. Ne riparleremo i dettagli maggiori, come sempre li trovate sul nostro sito web trebimeteo.com o scaricando l'app gratuita.